Ciao a tutti Orchetti, sono Orcuverde. In questo video volevo informarvi riguardo il nuovo evento che Rockstar ha rilasciato per questa settimana su GTA V Online. Prima di iniziare vi invito a condividere il video ai vostri amici e sui vostri social, poi a lasciare un bel pollice in su e di seguirmi sui social. Trovate tutti i link nella descrizione. E iniziamo subito! Questo nuovo evento terminerà la mattina di martedì prossimo, ovvero martedì 4 settembre. Iniziando dai bonus, è stato esteso il bonus dei doppi soldi e doppi RP sulla modalità competizione velocità esplosiva remix dell'evento della settimana precedente. Poi se effettuerete l'accesso a GTA V Online entro la fine di questo evento, nel gioco sbloccherete gratuitamente la livrea Tartan Blue e la livrea mimetica arancione per il Menacer, veicolo rilasciato ieri mattina su GTA V Online. Ieri ho caricato un video dedicato a questo veicolo nel canale, se non avete visto vi invito a guardarlo, se volete vedere le sue modifiche, le sue prestazioni e altro ancora, lascerò il link di quel video nella descrizione di questo video. Riguardo dei sconti invece, sconti riguardanti auto sportive, auto super e modifiche, c'è lo sconto nel 30% sulla Pegassi Reaper, sulla Cheval Taipan, sulla Coil Siclone, sulla Lampadati Micelli GT, sull'Overflood Outarch. Poi c'è lo sconto nel 25% su potenziamenti armature per veicoli, su potenziamenti motore, sul turbo, poi su livree per velivoli auto e moto e su riverniciature per velivoli auto e moto. Poi sconti riguardanti proprietà e aerei, c'è lo sconto nel 30% su basi operative, sul Jetpack Traster, sia sul prezzo normale che su quello speciale, sul P45 Nokota, sia sul prezzo normale che su quello speciale, e poi c'è lo sconto nel 40% sul Bombushka, sia sul prezzo normale che su quello speciale. Poi ci sono una gara premium e la prova a tempo, la gara premium è planata, solo per deluxo, mentre la prova a tempo è molo del perro. Nella descrizione di questo video lascerò anche il link dell'articolo di questo evento del sito Rockstar Newswire, se volete dateci un'occhiata. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, poi seguitemi sui social, trovate tutti i link dei miei social nella descrizione, e da Orkiverd tutti noi ci vediamo al prossimo video, bella!